arcade studio podcast episode 5 con claudine cantante illustratrice poi basta benvenuta grazie ciao ciao questa è la seconda puntata in italiano vediamo se è male però continuiamo nostro train positivo di ospiti femminili eh sì è vero sì ovviamente siamo il podcast più woke del podcast sfera l'opposto del me too movement mi sa questo dici boh non lo so no penso che noi vogliamo essere se fosse l'opposto del me too in effetti però va bene ci sta ciao allora siamo qui te hai da poco rilasciato una canzone one sì che potete sentire su itunes spotify tutti quanti ci sono i link sotto molto bella grazie non dico solo perché ho fatto io la copertina dell'altro esatto parlaci un po' come come è iniziato questa passione per la musica ma in realtà da quando ero piccola però poi diciamo che gli studi sono iniziati pochi anni fa diciamo 4 5 anni fa perché diciamo che ho sempre fatto fatica a trovare un modo per me diciamo confortevole per tirare fuori questa passione cioè quando ero piccola tranquillamente cioè cantavo davanti alla gente cioè registrazione e tutto poi dopo con gli anni ho iniziato un po' a vergognarmi e quindi magari cantavo chiusa in bagno nascosta cioè mentre mi erano fuori quindi ho un po' ritardato purtroppo gli studi questo è un po' un rimpianto che più diventi consapevole più diventi difficile sì 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 poi per vari eventi passati diciamo che mi hanno portato un po' ad avere maggiori insicurezze cioè poi lì ti devi esprimere proprio direttamente quindi secondo me se non so c'hai l'ansia piuttosto che sei un po' insicuro è sempre più cioè sicuramente più difficile infatti ho sempre un po' invidiato quelle persone che magari non so dicono di essere timide di non riuscire ad esprimersi però nel momento in cui cantano riescono a liberarsi a comunicare con gli altri perché invece per me è sempre stato cioè proprio sì però vorresti farlo nel senso hai il modo hai la voglia di farlo però non riesci a tirarlo fuori no beh cioè adesso riesco di più nel senso cioè ovviamente c'è sempre un po' l'ansia da palcoscenico quella di che ti stai esibendo adesso regolarmente sì sì grazie ai Giberteens sì sì e mi aiutano molto perché comunque inizio ad avere qualche esperienza live che prima avevo però con testi proprio cioè piccoli e quindi sicuramente mi aiuta molto e niente vabbè adesso riesco un po' più a liberarmi è una bella diciamo palestra da allenarti un pochino perché i ragazzi sono simpatici sì 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 si può lavorare tranquillamente lo fai sempre figo a star inizio davanti a delle anche come si dice il crowd il pubblico il pubblico abbastanza amichevole perché di solito sono 90% amici del band allora sì così suona un po' male no no hanno tanti amici tanti amici che li vogliono bene lealtà tra i fans esatto di brutto proprio loro però quello che volevo tirare fuori io forse visto che ti ho ovviamente essendo la mia la mia ragazza non diciamolo no essendo la mia ragazza ti ho seguito personalmente un po' tutto il percorso ma proprio partendo da zero che forse è una cosa che di solito non si parla spesso si parla di fare la gavetta fare tutte queste cose qua però entrare nel mondo musicale da zero è bello è bello è tosto cioè proprio non sai dove mettere neanche che siti cercare per dire quindi volevo capire un po' con te questo percorso cioè com'è stato da tuo punto di vista che poi noi non abbiamo mai parlato così sì di questa cosa qua con il microfono esatto a questa distanza esatto però sarebbe bello sapere il tuo punto di vista di da dove sei partita e dove ti trovi adesso beh allora a parte che è un processo lunghissimo quindi adesso inizio a vedere un piccolo inizio ma proprio inizio cioè un movimento non un inizio di chissà che ma in realtà sono partita iniziando a studiare canto con un'altra insegnante rispetto a quella che ho adesso sono stata lì tre anni poi ci sono diciamo dei momenti in cui capisci che magari bisogna di circondarti cioè di frequentare un ambiente diverso perché comunque io volevo fare robe un po' diverse gli stili non si incrociavano quindi anche se c'era affetto e tutto alla fine ho preso un po' la decisione di seguire seriamente questa strada quindi in un contesto differente poi è molto importante appunto circondarsi di gente situazioni più professionali cioè più professionali nel senso dico così perché ovviamente adesso sono all'oft 107 che è uno studio quindi hai la possibilità sia di fare lezioni canto piano eccetera eccetera che lavorare sulle produzioni musicali quindi cioè nel senso a livello professionale era molto più cioè molto più fanno tutto il progetto esatto quindi sei più proprio nel contesto quindi questo ti porta più a liberarti a andare più cioè a cercare di fare sempre di più sempre al massimo e ma come inizio sono entrambi allora Stefano Breda sì Mastermind e Say It quelli che di cui il loft cioè appartiene a loro da quello che ho capito proprio hanno fatto loro entrambi lavorano nel mondo della musica quindi quello è stato c'è proprio una bella opportunità cioè nel momento in cui avevo visto che c'era la possibilità di studiare lì e quindi poi magari di lavorare sui progetti che gli inediti che avevo ho proprio detto questo potrebbe essere l'inizio proprio cioè di un lavoro serio e le tue ispirazioni musicali dove vengono? ma allora più sul pop elettronica diciamo che mi piace un sacco vabbè ultimamente Billie Eilish so Frank Ocean poi anche grazie a lui che ne ascoltiamo un po' le stesse cose ci mandiamo artisti diversi musiche diverse e Tyler the Creator quindi sì esatto e niente vabbè partire da zero è tosto sicuramente perché non sai bene come muoverti e cioè ancora adesso lo sto cioè sto un po' imparando anche perché poi il panorama musicale è sempre in evoluzione e ci sono sempre più però è un momento bello adesso per uscire perché hai tanti sbocchi sì esatto cioè infatti questo mi piace molto il fatto di avere cioè che tutti abbiamo la possibilità di farci sentire ovviamente questo è sia positivo che negativo allo stesso tempo perché comunque cioè nel momento in cui lo possono fare tutti magari hai quel come si dice successo per modo di dire per un attimo e poi però cambia in continuazione molto è difficile farlo diventare una cosa longeva esatto perché adesso sto parlando con dei amici che seguono artisti che c'è questo trend di far uscire tipo un pezzo poi aspettare far uscire un altro cioè l'album sta un po' scomparendo però nella mia testa l'album cioè avere un concetto finito di una collezione di canzoni era la cosa che permetteva ad un artista di diventare longevo perché nel momento che tu producevi 12 canzoni che piacevano forse non tutte ma cioè avevi un discorso che andavano avanti cioè le persone si affezionavano prima al pezzo che veniva fuori il singolo e le cose e poi scoprendolo, ascoltandolo più volte forse veniva fuori un'altra anima del personaggio che ti faceva invece innamorare e aspettare il prossimo pezzo il prossimo album c'è poi che tante volte mi sa che è capitato a tutti che forse quando ascoltavi un cd forse il singolo ti ha portato a comprare il cd e poi dentro il cd trovi la tua canzone preferita sì ma come, non so, in no doubt che non piace a nessuno Tragic King no no vabbè plane a noi sì io l'ho sempre ascoltati tantissimo però c'è sempre Don't Speak che è la canzone che ascoltano tutti quanti che quando viene fuori ci sono lacrimoni il resto dell'album è pazzesco quella è la canzone meno bella in assoluto che c'è su quell'album tutto il resto è fighissimo e viene totalmente malcagata da maggior parte delle persone forse Spiderwebs è anche una traccia che viene perché c'era anche il video sì ma tantissimo sì ma poco comunque cioè non andavi a scoprire quello Don't Speak è proprio un pezzo simbolo degli anni 90 diventato sì sì assolutamente ma quelli che non partono da zero hai idea di che percorso fanno? oddio ma cos'è il percorso alternativo? il conservatorio? boh non so ah no beh nel senso comunque vabbè da qualche parte cioè nel senso il fatto di partire da un conservatorio eccetera cioè per me è sempre partire da zero cioè quelli che non partono da zero li vedo un po' più quelli con raccomandazioni piuttosto che con possibilità di spendere grandi cifre quindi già quello aiuto sempre che sono già abbastanza famosi non so e poi magari dicono ma adesso provo nella musica faccio e faccio una canzone quello non li considero nemmeno come quelli che vedi fanno fotografia e fanno video e che scrivono e fanno quello che vogliono perché quelli che sono fuori classe cioè non fuori classe nel senso che sono i più bravi ma possono fare quello che vogliono sempre possono rischiare un po' di più sì hanno i mezzi hanno le possibilità hanno le vetrine e non hanno bisogno di cioè hanno le rette di salvataggio allora loro fanno tutto quello che vogliono e prima o poi c'è qualcosa si attacca e viene fuori qualcosa di bello cioè credo che gli artisti veri che vengono fuori sono diversi cioè sì forse comunque bisogno di mezzi per venire fuori con un bel album o quello che è però uno che si dedica solo alla musica cioè lo senti è una musica che è diverso cioè viene fuori proprio il messaggio diversamente forse torna un po' al discorso che abbiamo fatto non mi ricordo è un po' ricorrente questo discorso però quello che anche gli artisti tipo del medievale del Rinascimento erano di base tanti di loro erano benestanti e quindi potevano permettersi o benestanti o almeno avevano qualcuno le spalle che li aiutavano cioè vangò potevano dedicarsi alla loro arte sì esatto esatto pensavo a medievali penso cioè quasi tutti quelli non venivano da quelli che spalavano la merda per le strade cioè avevano genitori che erano commercianti oppure avevano dottori cioè dottori quella roba lì e allora avevano la possibilità di almeno provarci poi prima di tornare all'ovile e poi lì cioè sì c'erano anche le accademie andavi lì facevi l'assistente a Leonardo cioè c'era anche lì tutto un percorso a un certo punto che nessuno ci pensa perché pensiamo sempre al rinascimento come una roba dove c'erano questi grandi maestri che sono venuti fuori e hanno fatto cose ma tutti quei grandi maestri hanno avuto tipo cittinaia di allievi un botto di persone che hanno continuato il discorso poi dopo invece adesso tornando un attimo sul filone della musica hai avuto il tuo primo singolo sì che si chiama One e adesso stai lavorando sul secondo sì 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 lo stiamo quasi finendo e anche qui vabbè mi attacco un po' a quello che diceva lui il processo un po' questo è un pezzo che esce ogni tot che poi farà parte di un EP che diciamo per ora ancora inedito ci sono dei pezzi ai quali dovremmo lavorare e niente quindi sì tra poco uscirà il secondo finalmente hai già un titolo ma dovrebbe essere Keep Myself From You però no in teoria sì è questo ormai ormai è questo te lo tieni sì ormai me lo tengo puoi portare bene e tu canti sempre in inglese sì per ora sì basta no pensavo che dovesse dire no mi sono bloccato sì canto in inglese perché cioè è vero che si può sperimentare provare un po' ad unire le cose però per ora lo stile che seguo cioè si lega meglio all'inglese perché cioè in italiano sarebbe un po' cioè un po' strano nel senso io non volevo fare lo snob però io faccio fatichissima ascoltare musica italiana cioè proprio poi ultimamente è difficile sono uscite robe fighe sì 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 però comunque sono tutte un po' sul filone indie invece sulla parte pop elettronica rischi di andare un po' sul baraccone con l'Italia cioè nel senso si può sempre creare però sì è strano non capisco il perché di questa cosa cioè non lo so è una questione secondo me di soprattutto di sonorità della lingua sì anche perché infatti quelli che stanno andando bene adesso tipo Calcutta il movimento trap cioè il trap di base alle basi molto fighe per quello secondo me che cioè c'è uno standard proprio mondiale cioè se fai quello qualsiasi lingua che fai tanto ci sono delle regole esatto e puoi storpiare tanto le parole in modo di dire Calcutta che invece fa indie rock o indie pop non capisco più niente anche lui gioca molto sulle sonorità sugli accenti e quindi è un po' strano sì poi anche proprio il modo di approcciarsi ai testi è molto diverso cioè sono questi che stanno andando adesso sono tutti un po' quasi scherzosi quindi giocano molto sulle parole è molto diverso anche a livello di metrica rispetto a un testo inglese quindi cioè se devi scrivere cioè tradurre non so una canzone scritta in inglese o in italiano viene a fare un po' una roba un po' strana un po' la merda un po' più difficile diciamo sì va tradotto deve essere cioè proprio pensata nella lingua in cui la scrivi sì poi appunto secondo me è una questione di stile che si sceglie non il fatto che la musica italiana non sia però secondo me il pop e l'elettronica con l'italiano c'è un po' difficile mentre su altri generi secondo me è anche giusto è una delle lingue più parlate al mondo l'inglese allora se vuoi ampliare un attimino il tuo la tua pubblica il tuo pubblico almeno cioè così hai più possibilità se nient'altro sì in realtà così così perché dicono che c'è il momento in cui canti in inglese in Italia poi dopo non funziona molto e anche lì particolare perché molti dicono ebbè ma è per il fatto che comunque l'italiano medio non parla bene l'inglese invece secondo me è una cavolata perché comunque l'italiano medio si ascolta le canzoni inglesi secondo me è proprio il fatto che nel momento in cui uno capisce che sei un italiano che sta cantando in inglese perdi un po' di credibilità per alcuni ovviamente e quindi ti taglia un po' una fetta di pubblico però è un po' tipo la mentalità tu vu farlo americano la roba lì no è quasi mi sa anche Marcello Burlone aveva una cosa simile a quello che quando è diventato famoso all'estero allora ha cominciato ad avere un mercato più italiano adesso non so se è vero o no si ma quello con tutti quanti cioè dai fotografi i videomaker tutto quanto se tu sei forte all'estero sei più rispettato poi in casa quindi puntiamo sull'estero però se tu sei in casa che fai quello che fa l'esterofilo eh sì meno sono un po' meno per nessun motivo secondo me c'è proprio sì boh poi appunto ci sono mille sì non è detto poi perché alla fine ci sono alcuni artisti italiani che cantano inglese Elisa ha cantato perfettamente però è sempre un po' di anni fa cioè non lo so un po' ha cambiata secondo me la mentalità su questo punto di vista poi nel senso adesso se lo può permettere perché ormai Elisa non lo so è un po' però adesso lei canta in italiano che non ha mai fatto cioè non lo faceva sì ha fatto qualche pezzo in inglese recentemente lei è un bel accento una delle cose che io odio è proprio l'accento e non capisco tipo quando guardi soprattutto gli show come X Factor Roda Voice o quelle cose lì in italiano nessuno dice mai niente sull'accento è come dicono male le parole in inglese perché non lo sentono però invece alcuni parlano bene l'inglese c'è la mica una volta cioè mica dovrebbe dire qualcosa o comunque quando c'è sì ma dovrebbero avere qualcuno ci dovrebbe essere un vocal coach o qualcosa che ti spieghi come dire anche perché se quello è un percorso per uscire noi non dobbiamo parlare di accenti che la gente che sta ascoltando che cazzo state facendo però un inglese che parla in italiano fa un po' più figo tipo mal c'è proprio come mal che cantava no ma è incredibile boppe mal cioè faccio fatichissimo a sentire uno che canta in inglese con un accento molto forte almeno che lo sta facendo apposta sì e poi anche lì l'accento inglese di base quando parli un'altra lingua è abbastanza morbida invece l'italiano cioè in italiano è già abbastanza dura anche se è molto ha molta sonorità però quando parli qualsiasi altra lingua cioè diventa molto scattoso sì sì la penis on the table sì ma quando sai perché è perché non non capiscono quello che stanno dicendo perché io ascolto come si chiama History on Fire con Daniele Bollelli lui è un un professore di storia che vive adesso non so se è Los Angeles o San Diego una roba del genere ha trovato terra santa parla l'inglese con un accento italianissimo però super morbido perché lui sa esattamente quello che sta dicendo è una lingua che sta usando allora lì si ammorbidisce totalmente e diventa bello e sonoro e armonioso il problema della maggior parte è che stanno ripetendo delle parole che hanno scritto male in inglese questo non è il tuo caso perché il tuo testo è perfetto meno male perfetto però li scrivono già male in partenza allora hai tutte queste parole messe un po' a caso cercano di la metrica la sbaglino secondo me spesso allora tu senti delle parole che sono spezzate nel modo sbagliate allora quello ti fa proprio e quello è difficile eh sì eh sì perché cioè finisce in modo sbagliato la parola e chi capisce quella lingua dice cosa è successo lì ma più che quello anche a livello proprio di melodie che ogni tanto senti cioè alcune si capisce che non sono molto cioè è difficile per questo motivo cioè anche ma ogni tanto vengono in mente delle robe poi le sento dopo un po' dico madonna sembra proprio una roba cioè un po' brutta così quindi secondo me è anche una questione proprio di melodie più non so più inglesi altri un po' più non lo so italianeggianti cercare di anche di inficcare dentro le parole sì una parola dentro uno spazio che non ci sta sì anche quello capita spesso sì sì poi però stiamo niente più o meno fumo dentro sempre parlando dell'inglese poi tra l'altro una delle cose più diciamo di successo i tuoi 15 minuti di fama è quando hai la tua canzone è andata in una playlist ufficiale di spotify che è proprio per italiani che cantano in inglese sì italians do it better esatto che brutto vedi per esempio io sono bloccata su sta cosa cioè mi fa un po' ridere pronunciare delle parole con la gente ci sono due tipi di persone quelli che non so parlano poi dicono delle cose in inglese e si trasformano improvvisamente altri che invece cioè non so se è meglio questo oppure sembrare proprio una che the cat is on the table cioè però non ce la vai italiani do it better esatto ecco se parli in italiano secondo me devi mantenere un po' quel filone esatto invece se parli in inglese cioè è come se parli in inglese non dici versace dici versace versace esatto perché ha senso con la tua ok la lingua in cui stai parlando invece stai se stai parlando in italiano puoi dire quindi nel tuo caso Eddie Murphy va benissimo Eddie Murphy non è Eddie Murphy non dovrebbe essere neanche Eddie Murphy in italiano perché dovrebbe essere Eddie Murphy eh vabbè se proprio vogliamo essere esatto Tom Cruise lì è un problema proprio di cioè di cercare di dire una parola come se tu la conoscesse e invece non la conoscesse non la sbagli Murphy Kerry Kedar invece che Cheddar Cheddar Tina Turner Beh Turner è già più giusto Turner Turner sì vabbè comunque non evitiamo questa roba qui una marea di brutti commenti di nuovo speriamo sarebbe bellissimo una marea io guarda vorrei tantissimo avere almeno tipo 20 haters questa settimana dopo la mia battuta del Me Too movement all'inizio mi sa che arriverà si è accannato totalmente Rene Olivo is a Me Too denier ma le tue ispirazioni quando tu scrivi com'è il processo allora io parto sempre dalla melodia nel senso che cioè faccio cose poi ogni tanto mi viene in mente una roba allora sono lì con il telefono e la registro poi nel momento in cui la registro qualche parola un po' sgana away viene fuori e allora da lì cerco poi di seguire cioè poi viene un po' più spontaneo ovviamente a seconda di del mood anche della canzone di quello di cui vorrei parlare poi se lì in quel momento mi sono abituata a canticchiarla con quella parola lì allora la vedo più cioè non so più naturale seguire l'ispirazione iniziale comunque parto sempre dalla melodia infatti i temi i temi beh un po' vari ultimamente vabbè sempre il solito e noiosissimo amore no vabbè poi anche robe con me stessa diciamo un po' di cose così autopsicologia esatto esatto quindi un po' vari interior redesign la parte più bella del processo creativo è che guardi dentro te stesso cercare di mettere un po' di riordine lì dentro o buttare tutta l'aria capire non mi piace più niente è la più difficile perché lì proprio devi togliere qualsiasi blocco e diciamo che per ora non ho ancora scritto un testo per il quale dico cioè per il quale penso ok sto dicendo proprio una roba che vorrei tenere per te è sempre tutto un po' sottile perché comunque è un processo un po' lungo cioè arrivare al momento in cui ti vuoi proprio liberare ad essere completamente senza filtri ma poi personale al massimo sì non è solo la tua voce ma anche certo ti stai sfogando fisicamente infatti quindi se devi fare anche una cosa di che parla proprio di te sei vulnerabile no no infatti sei molto vulnerabile sì sì ma te che rapporto hai con te stessa? ah oh mio bella domanda particolare molto particolare beh cioè non dico negativo però difficile nel senso che cioè sento sempre un po' per per il mio passato non so ho una sorta di gabbia ogni tanto perché so che posso fare di più posso essere un po' più lanciata in alcune cose però c'è molte paure insicurezze che ogni tanto saltano fuori è tutto appunto dovuto a problemi che ho avuto nel passato che di qui ti salvavano esatto e niente quindi vabbè ho fatto un percorso per il quale poi sono arrivata a superarli però ovviamente ti porti dietro qualche bagaglio hai fatto un po' di psicanalisi sì un po' di psicanalisi di psichiatria ma ti hai aiutato? sì perché vabbè ho fatto tantissimi anni no perché io sono interessato a questa cosa di parlare con qualcuno sì tirar fuori tutti i tuoi problemi infatti secondo me lo dovrebbero fare un po' tutti cioè ma non perché dico che tutti siano pazzi ma anzi per il fatto che ti aiuta molto a capire i tuoi meccanismi interni anche quelli degli altri quindi su questo punto di vista mi ha aiutato nel senso cioè non è che mi ha proprio risolto le cose ma le ha risolte nel momento in cui mi ha spiegato perché facevo questo perché pensavo questo perché mi rispondevano così esatto e quindi ti aiuta un po' nelle cose tutti i giorni sì successive che verranno dopo non hai la certezza di non ricadere in determinate cose di non prenderti male per determinate cose però sicuramente ti conosci meglio quindi questo è utile è come imparare a andare in bicicletta esatto ti dicono che sono i freni però poi tu puoi andare veloce quanto vuoi giurare le scese con gli alberi sì sì devi evitarli esatto non vanno i freni ma ci può giocare qualcuno che sistemi i freni al massimo cioè se proprio non vanno sì esatto ma ti rimano proprio cioè hai bisogno forse per un po' di tempo qualcuno che ti tiene il sedile il cellino e ti aiuta a stare dritto e poi a un certo punto non c'è più questa persona e te stai andando da sola e poi a un certo punto prendi quei cappellini piccoli e una fixie esatto esatto poi ti schianti perché lì stai cercando di evolverti no? nel momento che prendi la fixie allora ti stai evolendo evolvendo al prossimo passaggio e allora lì devi rimparare a usarla prima di schiantarti eh eh sì io posso parlare di biciclette finché vuoi sì 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 è una alloggia per me questo podcast sta diventando un po' la mia una specie di psicoanalisi stai tirando fuori un sacco di cose dalla mia testa che stanno venendo fuori tutte le volte anche solo pensandoci dopo ma il fatto di di sentire la mia voce mentre parlo lo sai che il trucco è di chi ti fa le domande che poi non c'è appunto sta zitto quindi tu per colmare il vuoto continui è stato un po' facendo questo perché nel senso non so che io no ma sì quello è un pochino quello non è il problema di mio fratello no no quello è assolutamente io sono lì a colmare i vuoti adesso parli adesso parli adesso parli adesso parli vai tu buco vai 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 no no ma cioè nel senso poi questa roba qua secondo me con noi funziona bene perché io sono di base di carattere sono uno che parla poco cioè io sono terribile come forse può dire può confermare lei io come in due persone cioè io con un'altra persona faccio molta fatica a parlare a conversare a tirare fuori gli argomenti sono uno più che reagisce a una domanda a una cosa invece tu sei uno che tira fuori proprio le domande e poi io posso andare avanti forse mi viene in mente un'altra roba cioè preferisco così ok quindi non sei licenziato grazie grazie beh allora parliamo dell'argomento ansia ecco che avrai fatto un'intervista recentemente con Frida che è un giornale femminile che parla di donne è stato bene ci è piaciuta tutta l'esperienza e ho tirato fuori questa cosa qui perché cioè principalmente perché io sono una persona molto onesta quindi quando mi chiedono di cose non riesco infatti anche adesso secondo me non mi sto promuovendo molto bene perché ma i testi allora li scrivo così ma cantante ma perché io vabbè non ce la faccio e niente quindi ho tirato fuori questa cosa qua perché faceva parte del mio processo cioè quando mi si chiede come sono arrivata a fare determinate cose bla 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 ovviamente questo ha portato sia a cose positive c'è il fatto che comunque cioè impari molto una volta che superi determinate cose su te stesse poi c'è la possibilità c'è appunto in ambito musicale adesso non è che voglio fare la masochista però comunque ti può aiutare il fatto di avere un percorso di questo tipo di cui parlare e nelle canzoni intendo però ovviamente la parte negativa che è il mio grande rimpianto è che in quegli anni lì che sono stati quelli del liceo e hanno preso un po' tutti gli anni non sono riuscita a coltivare diciamo le mie passioni quindi mentre prima ero super lanciata improvvisamente un po' per esperienze negative un po' per i soliti eventi delle medie con o del liceo con i cretini che ti pigliano per il culo eccetera eccetera quindi avevo smesso di fare tutto sia per questa cosa appunto di ansia attacchi di panico eccetera che non mi permettevano proprio di di affrontare un determinato percorso perché mi vergognavo molto ero molto paurosa quindi stavo un po' sulle mie e sia per il fatto che avevo avuto un po' la percezione che la mia parte un po' più esuberante creativa non andasse molto bene cioè fosse un po' di troppo non avevo accettata sì perché cioè comunque è difficile accettare cioè di essere cioè l'esibizionismo ovviamente nel momento in cui vuoi fare canto musica eccetera cioè hai un lato esibizionista tuo però in genere l'esibizionismo viene sempre preso un po' come una nota negativa e quindi io mi vergognavo molto di questa cosa lo vedo come una cosa appunto negativa brutta sbagliata di me che dovevo correggere un po' di troppo e niente quindi nulla cioè durante gli anni del liceo appunto ho mollato tutto finché poi un po' per il percorso terapeutico un po' perché appunto mi sono iscritta poi a un'università completamente diversa perché al liceo facevo arte no modo di dire vabbè ma si vede poi parleremo anche di questo però sì beh vabbè infatti poi dirò ho scelto appunto un percorso universitario totalmente diverso scientifico che mi è piaciuto molto mi è servito mi ha aiutato però lì ho proprio capito c'è una parte creativa che devo tirare fuori soprattutto lì che è tutto molto razionale cioè proprio l'opposto tu non penserai mai di esercitare quello che hai studiato ma in realtà non lo so perché vabbè che hai studiato scienze e tecnologie laureata smart woman ma non lo so cioè in realtà per tutti questi come si dice questi eventi del passato e questi questi rimpianti ecco che ho avuto adesso sono abbastanza lanciata e convinta su questo percorso perché è proprio quello che ho sempre voluto fare che però nascosto rifiutato non accettato e quindi adesso c'è proprio il fatto di avere adesso dei rimpianti mi porta a pensare nel futuro cioè cerco di finché posso di non averli e quindi non riesco a mollare questa cosa che ho iniziato però comunque quello che ho studiato mi è piaciuto molto e ma vediamo poi anche le opportunità lavorative perché non è un ambito molto molto come si dice fruttifero esatto una parola vera si penso di sì sì fruttifero penso fruttifero può essere adesso sì adesso è diventata una parola fammi controllare come petaloso sì sì registralo perché poi il fatto che tu sei molto strano nel senso che sei molto bloccata sia dal punto di vista di fallire ma soprattutto di avere successo cioè hai questa roba dell'imbarazzo sia del fallire che dell'avere successo perché poi non sai come ti vede adesso meno molto meno sei migliorata tantissimo grazie ma forse il fatto che ti sei messa lì a fare a prendere anche delle bastonate non da me fisicamente ovviamente me two me three tranquilli no ma proprio a livello cioè ti sei messa in delle situazioni dove hai dovuto tirare fuori il carattere però mi sa che è una cosa che tanti hanno cioè io sicuramente ce l'ho che quando tante volte ti blocchi perché non vuoi far vedere agli altri soprattutto a quelli che conosci quello che hai un lato diverso io non so di che cosa stai parlando tu non hai mai avuto quello tipo di di dire vorrei fare questa cosa qua però ormai ho fatto sì ho uno storico e la gente mi conosce un po' così e quindi se faccio questa cosa qua vengo visto come uno che ah man you changed no sei diverso sì è di brutto io io faccio vado io faccio anche cioè no ma non a casa faccio sì cioè se mi viene voglia di provare a fare qualcosa di nuovo lo faccio eh infatti è figo così senza troppo scusami non è una cosa tipo di fare una cosa nuova no di fare una cosa per cui vengo giudicato come una persona che ha cambiato il suo modo di vedere di pensare di robe cioè tu lo sai io ho cambiato l'idea su milioni di cose della mia vita no ma io intendo proprio di avere sempre una cosa che hai sempre voluto fare che non in qualche modo non l'hai fatto perché forse non eri bravo o non avevi i modi per farlo poi la tua vita è andata avanti hai preso un percorso hai cominciato a fare determinate cose per me è con la musica più o meno cioè io ho sempre voluto cioè se non skateavo avrei fatto qualcosa con la musica però ero talmente in fissa con la sì ma credo che tu non è che hai lasciato andare la musica perché volevi fare perché non pensavi che venivi accettato tu non facevi musica perché non avevi tempo di seguire quella roba lì insieme e tutto il resto ma è tipo io ho sempre avuto questo piccolo sogno di cioè mi vedevo su un palco a cantare o fare qualcosa anche di recitare però è rimasto tipo sempre un po' per imbarazzo o per qualcosa cioè per una serie di cose l'ho tenuto un po' bassa adesso poi ho fatto tipo un momento un po' da giovane poi ho fatto tutta la mia vita da adolescente giovane adulto e poi adesso dai 30 anni ho cominciato grazie anche a te poi che ho visto che lei l'ha fatto ho detto cazzo non sarebbe male buttarsi a fare altre robe da lì ho cominciato a fare tipo schiitare di meno intanto è normale sono invecchiato fermare le ginocchia infatti è un disastro e buttarmi un po' fregandomene di cosa pensa la gente anzi lo vedo come una cosa positiva adesso però allora io non lo vedo come cioè noi abbiamo sempre fatto cose artistiche no? che è quella la cosa che se tu vieni fuori da una famiglia razionale di commercialisti ingegneri architetti e roba del genere è giusto vieni fuori e dici ma io voglio fare le foto voglio fare skate videomaker e cose non lo so cioè quello è la cosa più difficile no? venire fuori da quello una volta che per fortuna la nostra madre ci ha spinto a fare quello che volevamo cioè hai detto tu non importa cosa studi vai a fare vuoi studiare non vuoi studiare cioè basta che fai basta che fai allora su quello io non ho mai sentito quella roba di dire non faccio questo perché quello no? ho preso le mie decisioni ho fatto le mie cose in questo sono stato fortunato ma invece io sono abbastanza sul suo pensiero però quello che dico è che non è non abbiamo avuto forze esterne che in qualche modo cioè noi due che ci hanno detto non fare quello è totalmente interno cioè il fatto di mostrarsi e rivelarsi diversi da quelli che da quello che sei abituato a mostrare ogni tanto un po' cioè io ad esempio l'ho avuto vabbè a parte quando ho dovuto cioè ho tirato fuori di nuovo questa mia passione per la musica perché non avevo mai fatto trapelare niente si dice così si mi è sembrato un po' strano sei l'unica cosa che ho studiato in questa lingua un po' perché avevo tirato fuori invece la passione per il disegno l'arte quindi ho pensato vabbè io ho sempre avuto questo sogno di far musica di cantare che è sempre stato più forte rispetto a quello artistico però sono partita con quello adesso cos'è cioè mi butto anche su sta cosa e uno pensa ma questa cosa vuole fare nella vita e poi dopo questo pensiero l'ho avuto successivamente cioè di recente per il fatto che comunque non so nella musica piuttosto che non so nei video anche cover che facevo piuttosto che nelle vabbè altre riprese in cui uscivo fuori risultavo diversa rispetto a come mi vedevano a casa quindi ho sempre sofferto la domanda tipo ma perché sei così che poi noi ti vediamo sempre non so silenziosa quindi questo mi ha bloccato molto perché pensavo eh però se adesso faccio vedere che invece sono così con gli altri è un po' strano cioè quindi è un po' è per questo che lo capisco più di su di te dove hai questi commenti cioè tu hai avuto questi commenti no ma non è una questione di io potrei sentirmi così con gente che nel senso su un iso deserto nel senso è una cosa totalmente interna tutto interna sei solo pazzo di tuo sì sì esatto si tratta di essere un po' cioè io ho sempre avuto problemi di autostima cioè fino a cioè ai 25 anni 26 quando ho cominciato quello è una cosa di cioè una volta che ho cominciato ad acquisire ma sì è normale è solo che tipo quando me l'ha detto lei ho detto cazzo ma sai che in effetti anch'io mi sento ho sempre sentito questa cosa qua e quindi quando sai che qualcun altro cioè più o meno la stessa roba comincia a sentirti un po' più normale gli altri può essere un po' però io come ripeto io il passo grande l'ho fatto quando ho detto voglio fare foto per guadagnarmi da vivere quello è stato il passo più grande quando è stato accettato quello ho detto ok vabbè cosa posso fare di peggio cioè effettivamente in una famiglia che non è che sono proprio conservatori però hanno tutti carriere hanno tutte almeno da parte di nostra madre il papà è un po' diverso sono un po' più entrepreneurs che hanno fatto i loro piccoli business le sue loro cose però comunque sempre in ambiti molto sicuri ristoranti bar gelaterie quelle robe lì allora cioè dire a uno adesso io voglio andare a prendere la macchina fotografica e sto lì a fare le foto e qualcuno mi pagherà hai detto così e a quel punto lì dici vabbè cioè quando hai dimostrato quello e ci sei riuscito forse quello anche aiuta tanto allora poi tutti gli altri problemi adesso potrei dire qualsiasi cosa nessuno sarebbe sorpreso nessuno direbbe no non ce la fai perché prima ci sono riuscito allora ci voglio provare di nuovo secondo me è anche un po' una questione che la gente si abitua a vederti in un certo modo eh sì sì ma non dico che è una cosa negativa no è solo che è così ma sì ma infatti anche facendo il podcast i miei clienti le persone che mi conoscono un po' che forse non capiscono questo lato qui della creatività ti fanno il commento ma come mai stai facendo queste cose di un'ora di due perché come mai vabbè ragazzi perché mi piace voglio fare le due cose ci stiamo divertendo cioè mica voglio diventare il prossimo Linus assolutamente no sarà difficile no anche perché non voglio correre il maratone non succederà mai no infatti useremo questo clip tra dieci anni quando corriamo il maratona ma magrissimo quella lì così sarà la marcia la marcia sì esatto no io non so non c'è mi sembra una roba alto tesino qualcosa cioè no si fa solo lì ma clà te prima di iniziare il tuo percorso di cantante sei diventata famosa almeno sul web per le tue miniature no sì cioè tu disegni personaggi del pop culture in bollini di due centimetri quanto sono grandi sì due o tre centimetri più o meno bellissimi super dettagliati ma è perché in maniera così piccola che riesci a fare queste cose o sì secondo me da un lato sì è in proporzione quindi mi aiuta lei li vede grandi così esatto ma in realtà sono grandi così con delle matite gigantesche da lontana e e quello è venuto fuori dal tuo percorso di studi del liceo no che hai studiato arte o no sì ecco quello che volevo dire era un primo passaggio esatto era un primo passaggio verso la tua emancipazione come artista sì beh in realtà allora negli anni del liceo cioè non lo so da un lato nonostante l'indirizzo sono stati quelli meno creativi a parte per le cose dette prima ma poi anche perché la scuola che facevo a me era proprio spenta cioè non so era tutto limitato a cioè era diventata una consegna anche perché poi non lo so un po' particolare cioè la scuola è così sì ma poi cioè particolare perché non c'era una grande possibilità di espressione cioè comunque lì anche le valutazioni sono assolutamente soggettive nel disegno e quindi le cose che facevo cioè io non andavo bene nel disegno cioè non piacevano mai le cose che faceva perché i professori avevano tutti un'impronta molto classica vabbè comunque in realtà per il liceo che ho fatto cioè non è che cioè non si lamentano un po' tutti i miei ex compagni perché non abbiamo imparato quasi un tubo e poi io dal terzo anno ho scelto un indirizzo del tutto cioè nel senso quando sei al terzo anno puoi scegliere tre indirizzi che sono figurativo grafica e architettura ho scelto architettura quindi tra i tre quello un po' più razionale un po' più sempre per i motivi detti prima e poi anche per un fatto che non lo so sentivo un po' la preoccupazione esterna sai sempre vabbè ma se una cosa vai a fare invece l'architetto è una figura più quindi anche lì in quei tre anni in realtà ho imparato però è una cosa totalmente diversa che adesso non utilizzo ma le tecniche cioè mettere questo colore prima di quell'altro io tutto tuo sì sì perché non ricordo proprio niente però progetti già prima quello forse sì cioè la progettazione perché prepari sei molto precisa in come prepari tutto ma in realtà è super naturale cioè a me ha aiutato il fatto che io ho disegnato da sempre da quando ero piccolissima perché mia sorella ha otto anni in più di me e quando avevo quattro anni lei ne aveva dodici ok matematica ci siamo ci siamo vabbè no sto dicendo una cavolata quindi quando avevo vabbè comunque anche lei è una appassionata è una appassionata d'arte sì adesso ha un po' mollato cioè almeno l'aspetto del disegno e quindi quando lei faceva l'artistico io andavo un po' a vedere cosa faceva cercavo di imparare un po' di cosine quindi già da quando ero piccola diciamo che ci stavi già esercitando sì sì mi stavo sì poi io facevo non so tipo creavo dei fumetti miei non so facevo le schede dei personaggi poi siccome ero maniaca compulsiva poi strappavo la pagina perché c'era un difetto allora ripartivo da capo non sono mai andata oltre una pagina però diciamo che lì appunto non so le cose che ho imparato un po' più la come dicevi tu precisione così sì un po' derivano anche dal percorso di studi però è una cosa proprio più naturale di che è innata sì adesso ci hai detto così sembra un po' però c'è sempre una cosa che a me è risultata abbastanza semplice ognuno ha le proprie diciamo doti e anzi appunto io nella realizzazione tu dici progettazione del disegno nelle prime fasi io vado proprio a capo cioè nel senso non che sia giusto però io non seguo proporzioni cioè mi viene proprio ad occhio così e quindi ci sta nel senso che quello è uno stile no però in genere dovresti cioè comunque vedo molti che fanno miniature che magari mettono le foto dei processi dove ci hanno non so hanno fatto il cerchio con io vado un po' così perché mi abbia di fare i video secondo me cioè non serve quella roba lì quella roba lì serve di più quando sei meno proprio creativamente capace cioè se tu riesci a proiettare quello che hai in test sulla pagina non hai bisogno di fare lo schemino prima eh sì no perché non è che le tue figure hanno delle proporzioni sballate a parte che vabbè sono in miniatura allora forse scappa un po' di più quello è però comunque non è cioè hai un tratto che è tuo personale e così funziona se tu cominci a schematizzarlo infatti io non ce la faccio proprio diventa un'altra cosa perché mi limita tanto quindi mi viene più spontaneo così per fortuna anche perché poi mi sono cioè no non diciamo che mi sono dimenticata però non sono molto brava a fare tutti questi schemini e e niente aspetta quella è la domanda no non c'è domanda stiamo dicendo che sei precisa in tutto quello che fai sei naturalmente precisa anche quando giochiamo la play che giochiamo Dead by Daylight è questo gioco dove devi sei un personaggio uno di quattro personaggi che sei dentro un campo dove c'è un killer tipo un mostro che ti insegue e devi fighissimo riparare sì è fighissimo devi riparare dei generatori per scappare e nel frattempo i vari sopravvissuti vengono presi da questo mostro e messi su dei ganci tu li puoi lasciare sì che mi incazzo sempre perché a me mi lasciano sempre dico vedi si scoprono le egoiche ah perché ovviamente giochi con altre persone sì e quindi ogni tanto siccome lui cioè giochiamo con il suo profilo ogni tanto dico cerca quella persona che descrivo codarda cioè proprio vabbè insulti da vecchia dimenticativa no vabbè però io gioca una signora di 40 anni esatto però io nelle altre cose in realtà non sono molto precisa cioè sono abbastanza cioè soprattutto nelle robe tecnologiche se vedi i miei cos'è archivi oppure i miei desktop sono pieni il cellulare no sono molto disordinata però in queste cose qui nel disegno mi prendo male se c'è qualcosa che vabbè quello è il tuo il tuo posto di felicità allora lì deve essere tutto giusto tutto perfetto il tuo safe space sì 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 però c'è l'ordinare tutto il resto della vita sarebbe troppo no infatti una cosa una cosa basta sì sì non ce la faresti mai stavo guardando oggi un programma su Picasso stamattina quello lì ha prodotto qualcosa come mille opere negli ultimi due anni di vita cioè a 89 anni due è morti a 91 anni mi sembra una roba del genere da 89 a 91 100 sculture 73 acquaforti milioni dipinti cioè era incredibile non credo che lui progettava le sue cose secondo me lui andava di getto sì sicuro totalmente di cuore e aveva talmente tanto da dire che continuava a produrre ma lui pagava anche tipo il caffè con i disegni mi sa all'inizio sì credo di sì arrivava e diceva sì era già famoso e doveva andare non so un milione sì sì ma la storia è pazzesca perché lui ha avuto mi sembra tre compagnie e figli con tutti e tre la prima l'ha sposata l'ultima no ha avuto tre compagnie e figli da due mi sembra ha sposato la prima la terza e quella in mezzo non l'ha mai sposata perché perché era ancora in vita la prima allora non poteva risposarsi per la legge francese nei quegli anni i figli della seconda sono tutti legittimi allora praticamente per la legge francese lui non poteva neanche decidere di dare a loro una parte dell'eredità per miracolo è venuto fuori proprio negli anni che stava morendo che è venuta cambiata questa legge se no cioè tra dei suoi figli lui passava tutte le estate insieme a tutte le famiglie praticamente tutti i figli andavano a lui a casa sua e stavano con lui allora non è che c'era questa roba li odio non li vedo mai cioè li vedeva sempre e invece non avrebbero avuto nessun diritto di niente perché erano illegittimi poi alla fine mi è andato bene però ti immagini non poter neanche dire guarda senti va bene non ho sposato tua madre però ecco mille quadri no infatti la soluzione era anche quella tommi le quadri senza andare per le leggi e sbattimenti e cose questi sono tue te le regalo però c'era questa cazzo di mosca che va in giro in continuazione sta girando come una pazza di qui dentro dobbiamo farci qualcosa mi piace solo come si sente dentro le cuffie vabbè sono pazzo ma tu stai continuando con le miniature hai rallentato ma allora adesso appunto per conciliare entrambe le cose un pochino rallentato però continuo perché cioè si si sposano benissimo insieme entrambi i percorsi nel senso che poi sono appunto due percorsi fatti di attese soprattutto quello musicale perché cioè devi aspettare un sacco ovviamente sia per scrivere te un pezzo che per produrlo e quindi nei tempi morti nei tempi di attesa mi sfogo sul disegno perché poi io c'è sempre la cosa di non so la paura di perdere tempo di non andare avanti e quindi diciamo alterno un po' le cose però si sto continuando a portare avanti anche quella parte lì perché cioè non voglio etichettarmi in qualche modo cioè non so cantante piuttosto che cioè mi piace poter esprimere la creatività sì quello che capita sì esatto poi il bello di quello che inizi e finisci cioè tu nel tempo che ti dai riesci a finire l'opera sì con la musica la scrivi poi devi aspettare che vai in produzione poi c'è il pezzo poi c'è la post-produzione forse passano mesi da quando l'hai scritto prima di effettivamente sentire il pezzo che è quello esatto come mia moglie che fa l'architetto che costruisce case eh ora che inizi il progetto e sei invecchiato prima di poterle effettivamente vedere perché ci metti sempre un vuoto di tempo e questo io ho visto sui lei che logora tantissimo perché non finisci mai niente infatti adesso fa set design dove fa va sul set progetta il coso e finisce su scatti finito in due mesi esce fuori la campagna quello che è e hai un po' di gratificazione è quello proprio allora tu hai un po' da una parte un po' dall'altro che è molto bello perché tu hai la gratificazione prolungata che è quella che alla fine ti dà più soddisfazione però è anche quella dove dici oh guarda che bello lo metto online hai anche un po' di feedback istantaneo un po' di ti dà un po' di forza per poi andare avanti e battere la testa contro il testo che stai scrivendo ma anche per tenere poi attivo anche vabbè in questo caso il profilo ma comunque cioè essere sempre attiva in generale sì 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 no infatti io anche a me lo vorrebbe tantissimo perché proprio l'idea di non vedere una cosa finita poi io ripenso tantissimo sulle cose quindi magari non so il giorno prima mi piace un sacco il giorno dopo no è una merda e quindi vado tantissimo in paranoia quindi così con il disegno mi sfogo su quello e niente bilancio un po' le cose perfetto e si piacerebbe anche fare un po' di recitazione no? ah beh sì sì pure quello è proprio il sognissimo nel cassetto ma o è lì secondo me posso sì no no non è proprio il sognissimo nel cassetto però da quando sono piccola ho un po' questa cosa qui cioè mi sarebbe proprio piaciuto io al liceo in realtà volevo fare una scuola quelle lì tipo artistiche che ti fanno fare cinema teatro musica tutte queste cose qui poi ovviamente costa un botto e quindi alla fine non l'ho fatta però non so è una cosa che mi piacerebbe molto ovviamente c'è da studiare perché io non ho mai fatto niente però appunto questa cosa la vorrei esprimere ad esempio nei video musicali cioè niente di non so melodrammatico però non so mi piacerebbe anche buttare la creatività pure su quello e provare delle cose un po' più tra virgolette artistiche cioè per modo di dire tentarci il video che girerà Jason sarà bellissimo che nessuno sa di chi stanno parlando Jason poi prima o poi ci sarà Jason che sarà divertente sì lo mettiamo comunque Jason sarà nel link qua sotto così potete vedere cosa farà lui è bravissimo e sarà molto contento di girare il tuo prossimo video ma lui non lo sa adesso adesso sì oh poveraccio l'abbiamo mutato sotto un pulgo ci sarà magari poi dopo viene no verrà assolutamente questo è un invito ufficiale per Jason Adriani che nonché è uno dei ultimi rollerblader aggressive inliner che c'è e spacca il culo sì 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 è veramente forte e poi strassimpatico quindi se stai guardando l'ora sì siamo si è fatta una certa stiamo andando bene 58 minuti ma dai lovely lovely figo direi che that's it yes ah forse il nome vuoi dire una volta per tutte come si dice come si pronuncia da dove viene ma da dove vabbè no diciamo da dove viene che poi sembra super banale no vabbè per gli italiani claudim e non claudim che tutti mi dicono claudim claudim eh vabbè hai messo te il 4m alla fine vabbè in inglese hai detto claudim io direi claudim è in francese claudim claudim e quindi dai non lo so uno di questi dai sono carini basta cercarlo è un nome che ci lascia cioè è aperta per tutti no perché poi c'è un cognome di merda quindi mi sono no ma dai però vabbè non si può dire no no va bene claudim grande grazie di essere venuta grazie a voi per fortuna che non ci vediamo soltanto qui pensavo non ci vediamo spezza non volevo dire dopo di questo di meno sicuramente ti conosco troppo bene adesso esatto mi hai un po' spaventato bene bye ciao 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 ciao